buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review vi ricordo che se vi piace questo format potete iscrivervi al canale e mettere mi piace le recensioni in questo modo date un piccolo aiuto al jazz e anche questa rubrica che mi diverto a tenere giornalmente per parlare di jazz ascoltarlo insieme a voi ho scelto oggi questo disco che è stato prodotto dalla new model label e si intitola canicola è stato realizzato da questo ensemble che si chiama electric circus e propone un mix di varie sonorità tra cui jazz reggae musiche percussive space rock un disco molto interessante per come mescola appunto tutti questi ingredienti diversi e realizzano un insieme particolarmente originale e godibile la formazione vede paolo urbani a batteria e percussioni federico bevacco le percussioni paolo pilati a basso chitarra e percussioni gabriele perero chitarra basso tastiera percussione buzuki francesco crete chitarra basso percussione bozuki e gelano burati sax flauto tastiera percussioni già di per sé una formazione quindi molto originale e vi consiglio quindi di ascoltarlo che non ve ne pentirete ciao e buona giornata